bentornati bentornati sul canale bentornati sul canale vi avevo preannunciato almeno per quanto riguarda per quanto riguarda l'inter e un aggiornamento su cialoba su cialoba e intanto è sempre più vicino l'addio di gecko ai nerazzurri sembra sembra si è saturato l'accordo tra il bosniaco e il fenerbace in serata ci dovrebbe essere un incontro tra appunto la gente del cigno di sarajevo e gli emissari del club turco in ogni caso possiamo dire che fenerbace o non fenerbace non ci sarà rinnovo con l'inter e quindi l'inter si priva del proprio numero 9 e chissà che non possa tornare sulle spalle di romelo lukaku di tutto questo torniamo a trevo non trevor trevo cialoba giovane 23 anni giovane difensore del del celsi che quest'anno ha aumentato un po bisogna dirlo il suo il suo minutaggio nel club londinese ma non è chiaramente un titolare non è considerato un titolare è considerato un sacrificabile da parte di pocettino e soprattutto per la sua voglia di di mettersi maggiormente in mostra però non è un 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 esubero totale non è uno da spedire anche perché l'ingaggio è ragionabilmente ancora diciamo basso per gli standard anche la premier league e e da tempo e nelle mire dell'inter lo sappiamo peraltro c'è il dettaglio della grande amicizia che lega cialoba a lukaku i due si sentono in questi giorni cialoba è stato in a milano e proprio a milano è stato intercettato dai microfoni di sky sport 24 e dalle sue parole si capisce insomma anche la la predisposizione più che la volontà o la predisposizione a vestire la maglia dell'inter in particolare anche se non viene specificato se mi piacerebbe giocare qui un giorno riferendosi appunto a milano il campione italiano non si può sapere cosa ci riserve il futuro ha detto il difensore inglese di origini sierra leonesi peraltro in passato ho giocato in francia in inghilterra possibile che possa provare nuove avventure per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse e quindi anche anche qui si capisce insomma la tentazione no a differenza magari di frattesi no io voglio rimanere a giocare in italia cialoba è uno che non è una novità ma si dice pronto anche a un'altra esperienza all'estero dopo quella in terra francese non conosco ancora il mio futuro ma l'italia mi piace è un bellissimo paese il campionato è molto buono in questo momento però un contratto col celsi sono concentrato sul presente un contratto molto lungo fino al 2028 non si può mai sapere però come ho detto l'italia mi piace il tempo è bello e le persone sono gentili mi trovo bene qui ha detto e chiaramente poi nell'intervista viene fatta la domanda sul fatto appunto che l'italia sia tornata anche in europa a livelli ottimi sotto il profilo dei club con le tre finali perse però tre finali raggiunte nelle altre tante coppe europee chiaro che il livello del calcio qui è alto è una è una grande lega dice cialoba ho visto le tre finali parliamo di formazioni importanti tutto il movimento ha cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti al di là insomma delle solite parole pare evidente anche la la l'indirizzo di un suo possibile addio al celsi ricordiamo scadenza del contratto 30 giugno 2028 molto lungo c'è anche addirittura l'opzione per un anno ulteriore chi è cialoba cialoba è un difensore longilineo molto alto un metro e 92 di piede destro gioca preferibilmente difensore centrale può giocare anche a centrocampo nella difesa 3 adottata dal celsi ad esempio gioca stabilmente quando viene impiegato nel ruolo di centrodestra quindi di braccetto destro di terzino adesso come vogliamo chiamarlo è un giocatore dalle spiccate caratteristiche fisiche deve migliorare secondo me nella lettura di alcune situazioni di pericolo nella marcatura a uomo ma in generale è un giocatore dal dalla qualità grezza secondo me sulla quale ci si può veramente veramente lavorare bene al di là della moda di questi difensori veloci rapidi britannici no e francesi britannici e francesi no che c'è questa questo indirizzo anche in italia ormai cialoba devo dire che è un giocatore che se educato a livello difensivo ha veramente un potenziale sul quale si ci si può investire non credo che il celsi però lo lasci partire a cuor leggero non credo che il celsi voglia privarsene così insomma a livello di prezzo di favori o quant'altro quindi anche anche qui potrebbe si potrebbe ragionare sul prestito ne vale la pena perché poi il discorso è che tu vai comunque a occupare in chiave inter uno slot di un difensore che tu però cresci poi per gli altri a meno che non si trovi talmente tanto bene che un po come lukaku vada a puntare vada poi a puntare i piedi per restare a milano ma lì poi vai devi trattare sul prezzo è un'operazione secondo me molto complicata non la vedo così semplice forse ripeto a livello di proprio di acquisto a titolo definitivo sul prestito si può starci però è qualcosa di estemporaneo resta secondo me la qualità del giocatore al momento non è celsa non stiamo parlando di qualcuno che viene diventato idolare e il nuovo screener non è così almeno per quanto mi riguarda non è assolutamente così è un giocatore che però se è educato se se indirizzato e soprattutto a livello di attenzione di attenzione quasi aspetto fisico di velocità e il resto ci siamo però soprattutto l'attenzione alla concentrazione di stare sul pezzo e non perdersi l'uomo e di essere puntuale nel nella lettura delle situazioni più complicate e allora è un investimento però deve essere un investimento secondo me adesso di investimento sul quale tu ci punti ci lavori ti matura e allora poi è qualcosa secondo me in prestito non lo so se sia proprio il la situazione più congeniale possibile per per l'inter in questo in momento detto di gecko si parla a proposito di united kingdom ancora di unana stavolta sponda manchester united perché de gea può partire tenaga è uno che gli piace tata tata sappiamo tutta la storiella io torno a dire secondo me l'inter non rinuncerà una a meno di offerte veramente fuori mercato ma lì il discorso vale per chiunque per tutti sempre non solo per un anno e non solo un saluto